Biblioteca comunale. Fondata nel 1667, questa antica e nobile istituzione raccoglie qualcosa come oltre 102.000 volumi, tra cui 23 incunaboli e circa 820 cinquecentine. Un patrimonio notevolissimo se poi si va ad aggiungere a quello dell'archivio storico comunale, una cospicua raccolta di documenti riguardanti l'attività dell'amministrazione civica a partire dal 1601, ivi compresi la collezione delle pergamene, il libro rosso, gli statuti e i catasti del XIV secolo, le riformanze.